Si chiama Jane Park, che aveva 27 anni di età e pensate che vinse un milione di sterline tanti anni fa di tempo. Era il 2013, ottene una cifra cospicua di denaro la seguente, come quella che poc'anzi vi ho rivelato, la donna però che abita in Burga, scozzese, a Dr. Phil, questa trasmissione tv, ha fatto sapere che quella cifra non doveva effettivamente parlando vincerla. Infatti, grazie a quella cifra, ha mantenuto un alto livello di vita, grazie a quei soldi. Ma ecco che la donna in questione ha rivelato proprio che vorrei non avere vinto mai quella montagna di soldi. Infatti, grazie a tutti quei soldi, a quei soldi tanti che ha guadagnato, ha ricorso troppo, in maniera eccessiva, quindi alla chirurgia estetica, dirapitando quasi un intero patrimonio. Tanti interventi chirurgici da sudire troppi, seno, gambe, glutei, labbra, viso e di seguito, tanto che ha speso circa 50.000 sterline. Una cifra, insomma, piuttosto esagerata. Da andare al tuo italiano è tutto, ciao a tutti.